Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, io sono onorata, è un grande piacere averla qui con noi, una grandissima artista, Paola Turci Ciao, vicino alla bellezza, vicino alla bellezza si sta sempre bene Allora, come stai? Come è andata? La prima serata è andata alla grande che abbiamo visto Come è andata? Bene, bene, alternavo sensazioni, alternavo l'idea di, ah non vedo l'ora, mamma mia Voglio andare a casa Voglio scappare No, è andata bene, avevo un po' di batticuore, emozione, ma propongo questa canzone che è l'ultimo ostacolo Che è impegnativa emotivamente per me, forse è la più impegnativa dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista tecnico Perciò insomma, live, poi se la metti sul palco del Teatro Ariston c'è un po' di crash Ah certo Però è andata bene, sono contenta, ero felice Ed eri elegantissima, te lo posso dire Grazie Abbiamo ammirato il tuo look, sempre stilosissima E poi si è visto che ti sei emozionata un po' Sì, sì, sì Ritornare su quel palco non è mai la stessa cosa, mai, mai Ma come mai questo palco? Che cosa fa? Perché crea un'emozione incredibile Beh, ma sono sicura che sia la preparazione prima dell'evento, fino a quel momento, tu pensi a quel momento e poi arriva quel momento e aiuto Poi dopo c'è ancora l'adrenalina Che dura tre minuti, infatti la nostra, ci diciamo ripetutamente, pensa tra due ore è finita, oppure pensa tra un giorno è finita, pensa che tra pochissimo è finita Ma perché sale la tensione per quell'istante Ed è assurdo, assurdo ed è bellissimo Sono stati due anni intensi, molto forti, belli perché ti sei tolta un sacco di soddisfazione Poi hai fatto un tour incredibile in giro per l'Italia, nei teatri più belli d'Italia Come li hai vissuti? Sì, come un premio, come un regalo È stato bellissimo, finalmente ho realizzato quello che volevo fare Entrare dentro i teatri più belli, l'Arcimboldi di Milano, l'Auditorium, la Sala Santa Cecilia di Roma Per me è stato un bel traguardo E ricominciare adesso con un disco nuovo che esce il 15 marzo Non hai ancora trovato il titolo, tra l'altro ci stai ancora lavorando? No, ce l'ho Ce l'hai, allora Ce l'ho e te lo dico Me lo dici, è certo È un titolo... vabbè, sono emozionata perché questo è un disco davvero nuovo Infatti si intitola Viva da Morire Ah, bellissimo Viva da Morire, cioè è un disco nuovo nel senso che c'è passato, presente e molto futuro È un disco che ha dei momenti che non ti aspetti Tra cui anche la canzone che dà il titolo all'album, che è Viva da Morire appunto È un disco pieno di vita Ma poi oggi invece è uscito anche il video dell'ultimo ostacolo Da stamattina con due presenze incredibili, due attori che si sono prestati a recitare nel video Uno è Beppe Fiorello, con cui duetterò venerdì E l'altra è Sara Felbenbaum, attrice e ragazza stupenda È il tutto diretto da una regista francese Quindi le donne sono maggioritarie, diciamo Brava! Il mio team siamo praticamente quasi tutte donne E la regista appunto francese che ha girato una Roma bellissima E questi due attori molto molto bravi, molto toccanti E appunto abbiamo accennato venerdì il duetto con Beppe Fiorello Come questa collaborazione Cioè è vero ha girato il video Ma trovarsi sul palco dell'Ariston insieme che effetto farà? Eh, sarà molto emozionante Perché lui è una persona che si emoziona Come me È palpitante lui Ha quell'energia bellissima, emotiva, istintiva È straordinario Si prepara fino all'inverosimile È un grandissimo professionista È un attore ed è un cantante straordinario Sono andata ben due volte a vedere il suo spettacolo Io che insomma una volta può bastare Ma mi è piaciuto molto Ed era uno spettacolo Sulla figura del padre Che sembra un po' la mia canzone Sulla figura del padre attraverso le canzoni di Domenico Modugno Quindi lui recitava, raccontava questa storia E cantando le canzoni di Domenico Modugno E la prima volta mi ha tirato sul palco E abbiamo cantato insieme Qualche anno fa Tre, quattro anni fa E poi ci siamo ritrovati Per caso lui per caso ha sentito la canzone L'ultimo ostacolo Ed è rimasto colpito Quando gli ho detto di cosa parlava Di cosa, a cosa mi ero ispirata Lui che è padre ma è anche molto figlio E è stato un figlio insomma E ha sentito forte la figura paterna Mi ha detto di sì Ci credo E quindi staremo insieme Ci terremo la mano No, non vediamo l'ora di ascoltarvi Di vedervi insieme sul palco dell'Ariston Tra l'altro tu hai partecipato Insomma sei stata anche lì ad Amici E qui all'Ariston c'è anche Einer e Irama E Irama, sì Che effetto ti fa vederli insomma sul palco E poi sicuramente ti avranno anche chiesto qualche consiglio, no? Beh, posso dire Perché voglio dire Sono estremamente più grande di loro E grande di età E quindi posso dire che sono dei cuccioli Dei cuccioli Einer soprattutto È un cucciolo Poi è stato il mio, no? Eh certo Il mio ragazzo, no? L'ho portato al serale Cioè l'ho fatto passare dal pomeriggio alla sera Ed è sempre bravo comunque Ieri sera ho avuto modo di sentirlo proprio così Di sfuggita mentre passavo Poi c'era uno schermo con l'audio Ma perché ci sono tanti gruppi, tante band E quindi un po' ci si perde Però oggi ho avuto la possibilità di incontrare degli exotago Perciò mi sono presentata e non ci eravamo ancora incontrati Però, insomma, è bello incontrare dei ragazzi Che magari cominciano da poco e hanno già un grande successo Vedi Ultimo Vedi Achille, Achille Lauro Insomma, con Achille Lauro mi ingarello per il look Perché per me lui è bellissimo Molto bello come si mette Particolare E perciò Sapevo Ero sicura che si sarebbe vestito di bianco ieri sera Ed era vestito di bianco Cioè azzeccato Devo dire che i rapporti sono molto belli dietro le quinte Molto belli Ci si lascia andare Ci si racconta Poi sai Stiamo tra Patti Bravo Loredana Non so E appunto Ultimo Negrita Insomma C'è un gruppo C'è un gruppo davvero vario Misto E molto interessante Musicalmente parlando Noi siamo curiosi di vedere il tuo prossimo look E di riascoltarti ancora sul palco dell'Arison Per il momento ti ringraziamo Torna a trovarci presto Perché ti vogliamo qua con noi Grazie Alessia Grazie a tutti Grazie Paola Turci Ciao Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Mondo Convenienza Modena Giochi Italpizza Biper Banca ODS Giocattoli Renault Franciosi Griss in Bon Marlu Gioielli E Dipinto di Blu La moda che fa stile Di Lorenzo Grazie a tutti Ho lavato fondamentale увати tightro Grazie a tutti